Sì. Partiti. Dall'interno prova a far partenza Odraodexam, poi viene subito incalzata da Bless You che prende decisamente l'iniziativa. In terza posizione si concretizza Pietra Filosofale, poi Appia Claudia, Fritz, ancora più all'esterno De Druid, mentre chiude il drappello. Vado al massimo, ancora più in coda, Deacalypso e Fiscal Drag. Cavalli che vanno adesso ad affrontare la curva, è sempre Bless You davanti, in seconda posizione si concretizza De Druid, poi si trascina in terza Odraodexam, Pietra Filosofale, Fritz, vado al massimo, Appia Claudia, Fiscal Drag e Deacalypso. Questo l'ordine, la lunga fila indiana con i cavalli che a questo punto vanno ad aggredire addirittura di arrivo, Bless You e tre lunghezze davanti, si trascina in seconda posizione De Druid. Poi all'interno c'è Odraodexam che si prepara, stessa cosa fa Pietra Filosofale alla ricerca dello spazio, vado al massimo che si presenta al centro della pista insieme a Fritz. Siamo però alle intersezioni della pista e davanti c'è ancora Bless You, cerca un barco interno Pietra Filosofale ma quella più cattiva sembra Odraodexam che si presenta al suo esterno all'appoggio. Poi alle sue spalle ancora vado al massimo che segue la scia di Bless You, ancora vitale, poi all'interno Pietra Filosofale, siamo a 250 dal palo, Odraodexam tende a passare, mette mezza davanti nei confronti di Bless You. Poi in terza ancora vado al massimo e Pietra Filosofale, 150 dal palo, Odraodexam è assoluta padrone della contesa nei confronti di Bless You. E poi vado al massimo, nel finale Odraodexam è facile nei confronti di Bless You e vado al massimo. Grazie. Grazie. Grazie.